Dopo nove giornate d'aula e un intenso dibattito è stata approvata il 4 maggio in Consiglio regionale la legge finanziaria per il 2012, con 31 voti favorevoli e 17 contrari. Il provvedimento è lo strumento della manovra finanziaria regionale con il quale la Giunta modifica e integra le disposizioni legislative necessarie per rendere realizzabile il bilancio. Fra le numerose decisioni, interventi fiscali a favore della cultura, riscossione dei tributi locali in capo alla Regione e versamento diretto alla Regione dei proventi derivanti da accertamento di evasione fiscale su IRAP e addizionale IRPEF.